Grazie Presidente. Annuncio il voto favorevole del Movimento 5 Stelle rispetto a questa mozione. Ho qualche idea diversa rispetto a Sarti sulla profiatezza dei familiari e dei malati rispetto al pronto soccorso. Credo che i primi ad essere educati dovrebbero essere medici, i medici di famiglia in particolare, anche i pediatri di famiglia che spesso non si trovano, che spesso è faticoso avere con loro una relazione. Non parlo di Sarti naturalmente che è uno dei più stimati pediatri della Toscana, parlo in generale di una medicina di base che tende a squalificarsi da sola spesso, quindi ci sarebbe da ragionare un pochino di più su questo tema. Ho naturalmente una sola perplessità, un dubbio solo rispetto alla mozione, rispetto a questa soglia dei 2.500 accessi, perché sappiamo bene che, per esempio, è verosimile che d'estate a Portoferraio ci siano 2.500 accessi e d'inverno no. Quindi cosa succede a Portoferraio? Questa è un po' una domanda da farsi. È verosimile che ci possano essere fino a 2.500 accessi anche alla Betone, insomma a San Marcello Pistoiese, con Dinamo Camp lì accanto anche, tra l'altro. Quindi come ci si comporta rispetto a questi presidi che vengono depotenziati continuamente, da ospedali di base come è Portoferraio a ospedali di prossimità, a distretto con pochi posti letto come è San Marcello Pistoiese. Quindi questa perplessità ce l'ho, condividendo naturalmente al 100% la proposta che noi votiamo. Quindi una riflessione su questo, che non può essere solo l'elemento della frequenza delle prestazioni, ma anche della necessità di garantirle le prestazioni laddove il sistema montano, il sistema isolano in questo caso rischiano di penalizzare questi cittadini e non è assolutamente giusto. L'altro aspetto rispetto alla limitazione a 2.500 posti, e magari lo potremmo studiare in commissione, è la capacità comunque di garantire un'assistenza pediatrica di base, 24 ore su 24, anche in aree tipo la Lunigiana, tipo la Miata, eccetera, dove chiaramente la guardia medica pediatrica non c'è e non ci sono delle condizioni di risoluzione di bisogni pediatrici di base. Credo che anche questo vada presso in considerazione. Potrebbe essere anche un sistema per rendere meno inappropriati gli accessi, perché chiaramente se hai un pediatra a disposizione comunque sulle 24 ore, in termini di sorveglianza clinica, il pronto soccorso viene meno congestionato.